Dovremmo avere in linea un nostro amico collegato da Modena, stiamo parlando di Fabrizio. Buon pomeriggio Fabrizio. Buon pomeriggio a te. Come va? Tutto bene? Tutto bene, grazie mille. Allora Fabrizio, presentiamoci un po' alla gente che sta seguendo dall'FM anche online dal sito www.radioinagricento.it quindi magari ci possono anche essere dei tuoi amici se lo hai detto in giro che quest'oggi eri il protagonista del Bebis Show. Chi è Fabrizio? Raccontati un po', spiegaci. Allora, prima di tutto un saluto a tutti gli aspettatori, ascoltatori. Niente, io sono un paroliere, da 15 anni che faccio il paroliere, ho una pagina Facebook con 5.000 utenti già da qualche anno, con autore testi inediti Fabrizio e niente, io sono da 15 anni che collaboro come musicista di mezzo natalino e abbiamo la possibilità sia di noleggiare i nostri editi che di farli su misura. Ecco, quindi... Abbiamo un nostro sito, sì? Sì, sì, no, 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 racconta un attimino il sito perché la gente magari è curiosa e vuole sapere. Esatto, esatto. Così almeno si fa un'idea di come noi lavoriamo, di chi siamo, soprattutto possono vedere in questo sito che adesso do alcuni video dove dite che hanno già collaborato con noi e i loro commenti. per cui il sito è Ndm Musica e Parole. Ndm Musica e Parole. Ci possono vedere alcuni video, come stavo dicendo, di alcune persone che hanno già collaborato con noi e lì parla un po' di noi, di come noi... di chi siamo, di come lavoriamo, per quei contatti telefonici, tutto. Bene, questo è importante, quindi tutti coloro i quali magari hanno interesse nel ricercare, per esempio, un motivetto già scritto, già pronto e volessero magari canticchiarlo perché magari date questa opportunità, insomma, la gente, i ragazzi che in tanti sono curiosi di volere fare musica, hanno delle belle voci, voi siete disponibili, insomma, a creare ad acta. Esatto, esatto, esatto. È logico che un inedito è tutta un'altra cosa, non è da paragonare a una cover, un inedito è qualcosa di unico. Per cui quando uno si vuole presentare a una gara, a qualsiasi provino, un inedito è una presentazione completamente diversa. Una cover posso fare il paragone. Ricordiamo che una cover è una canzone famosa e già cantata. Certo. Un inedito è invece qualcosa di proprio. Bene, come ti è nata questa passione di scrivere canzoni? Ah, io il musicista Natanino Di Mezzo, lui, che collaboriamo in Sconduttoreto Punto da 15 anni, noi ci siamo conosciuti per caso perché è una forte passione da entrambi, non nel rambo della musica, io come parro liere. E niente, io praticamente sono nato con questa cosa, cioè su me ci nasci con questa, diciamo, passione tra virgolette, però è una passione a tutti gli effetti, perché ti porta a entrare in una realtà veramente unica. Certo, certo. Dove riesci a esprimere i propri sentimenti, però in modo ritmico, non è facile. Certo. Allora Fabrizio, noi vogliamo ringraziarti, i tempi sono, come tu sai, i tempi radiofonici sono abbastanza stretti, però è stato interessante poterti sentire, noi ti auguriamo l'in bocca al lupo e ci sentiremo magari quando ci sarà l'opportunità. Troppo gentile, grazie, un saluto a tutti voi. Grazie a te e il baby show continua.